benvenuti e bentornati nel mio canale con questo video parliamo di un'altra cartuccia dispersante da me utilizzata in calibro 12 a fiocchi woodcock excellence una cartuccia dedicata alla caccia la beccaccia ma non solo perché la fanno anche in altre numerazioni quindi si può anche utilizzare per la caccia al fagiano poi nelle caratteristiche andiamo a vedere nel dettaglio quali numerazioni l'unica cosa che dico che è 38 grammi quindi è una cartuccia con una carica alta di pallini anche con questa cartuccia ho fatto un test a 15 metri e sono rimasto un po un po stupito ma il perché lo andiamo a vedere insieme vi ricordo di iscrivervi al mio canale a mettere un like se vi piace il video e di seguirmi sulla mia pagina instagram andiamo a vedere prima le caratteristiche e poi come dicevo prima è la cartuccia e 38 grammi di piombo questa qui che ho utilizzato è un e con cui ho fatto i test è più un buon numero 9 ma la fanno anche in piombo 7 8 e 10 ha un innesco fiocchi e 616 la polvere utilizzata mb per 36 a una borra di feltro alta 11 mm più una croce dispersore alta 16 mm bene qua c'è il test che ho eseguito con il mio beretta 302 con canna da 65 cm e strozzatura a tre stelle il test è stato eseguito sempre a 15 metri per vedere dato che è una dispersante e come dispersante questo qui è un foglio da un metro per un metro è abbastanza compatta come dispersante perché qua c'è una concentrazione di pallini sono veramente vicini quindi a questa distanza non è ancora abbastanza aperta andiamo a vedere nel dettaglio la rosata bene siete piaciuto questo video se vuoi sapere qualcosa dillo qua sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti